Prosegue a pieno ritmo la campagna vaccinazioni in provincia di Arezzo, andata avanti senza sosta anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Ad oggi sono 46.980 gli eretini che hanno ricevuto la prima dose, tre giorni fa erano 39.924, mentre sono 16.523 quelli che hanno completato il ciclo anche con il richiamo, venerdì erano 15.418. La provincia di Arezzo è la prima in tutta l'area vasta per il numero di vaccinazioni eseguite. Nel dettaglio vediamo che gli over 80 sono la categoria che ha beneficiato maggiormente del vaccino, con 15.285 prime somministrazioni ricevute e 6.946 richiami fatti. Ai soggetti particolarmente vulnerabili sono state invece somministrate 3.012 dosi e 226 vaccini, ai caregiver 76 prime somministrazioni e ancora nessuna seconda dose. Sono poi 8.956 gli operatori sociosanitari vaccinati, di questi 7.963 hanno completato il ciclo vaccinale. Per quanto riguarda il personale scolastico sono 6.878 le persone a cui è stata iniettata una dose del vaccino e solo 29 hanno ricevuto anche il richiamo.